Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i militari del nucleo investigativo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 37enne, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale e lesioni, ai danni di una giovane avvenuto sull'isola d'Elba la notte di Capodanno. In base agli accertamenti svolti dai militari, l'arrestato, che stava lavorando insieme alla vittima all'interno di un locale dove era stato organizzato un veglione, approfittando del suo stato di ebrezza, avrebbe abusato di lei in un locale riservato al personale.